Noi arriveremo con un'assemblea del gruppo parlamentare se andremo alle consultazioni, perché lei sa benissimo quali sono i rapporti tra noi e il Presidente Napolitano, non crediamo che soprattutto nell'ultimo anno, gli ultimi due anni, si sia comportato davvero arbitro e garante della Costituzione e dal momento che qui i giochi sono tutti decisi, si sono decisi come al solito, in un'assemblea di partito di 136 persone, quando quel partito ha 400 parlamentari, fiducia e rifiducia di un nuovo governo, io credo che a giochi già fatti dovremmo riflettere se andare veramente al Quirinale oppure aspettare questo governo e questa maggioranza in Parlamento se ci fanno la cortesia di venirci, perché a questo punto ormai si decide tutto fuori dal Parlamento. Lei mi sta dicendo Di Maio che voi non sapete ancora se vi presenterete al Quirinale? Lo decideremo in un'assemblea del gruppo parlamentare, ma penso in questi giorni, visto che i tempi stringono, ovviamente prima che... Sarebbe uno strappo istituzionale non da poco, però non presentarsi neanche... Noi vogliamo il diritto, vogliamo avere il diritto di poter prendere anche queste decisioni. Questo senza dubbio, questo senza dubbio. Soprattutto per una questione anche di coerenza, di che stiamo parlando? Prima presentiamo l'impeachment e poi andiamo da lui, insomma questo è il concetto fondamentale che poi ci crea dei dubbi.